Nzaccio, taci, guaccio Oh madonna, questi spuntano come i fiori in bocca Arrivavano a Napoli Salve a tutti ragazzi, siamo con un altro video di Fortnite Con voi Vincent, sto registrando questo video Il giorno dopo dell'evento di Star Wars Mi sono perso l'evento E' una cosa che è capitata non solo a me Ma comunque ci sono state altre persone che purtroppo si sono persi l'evento Perché o non sono riuscito ad entrare proprio in partita Oppure, insomma, non ce l'hanno fatta vederlo Io sono stato uno di questi Mi sono trovato alle 8-5 Dove iniziare alle 8 Poi hanno avvisato che sarebbe iniziato alle 8.10 Ma non ci sono riuscito Tant'è che sono stato davanti alla schermata Come potete vedere dalla Click Ma è proprio così o cosa? C'è solo questa modalità Evento live Di rientriamo per non perdere tempo Ma vabbè che cosa figa Cioè si parte benissimo Cioè si parte un parolone Perché ancora non siamo entrati Però Partecipando all'evento Si dovrebbe avere come regalo Quel deltaplano E non sono un fan spiegatato di Star Wars Anzi non li ho manco visti tutti i film Ma... Non mi dispiace Come lì Eh sì Se ci muovessimo Sarebbe Bellissimo Dato che sono i 57 Vero? Ehm... Giusto per informazione Sono i 59 Sono le 8 Bene Cosa avere deciso? Non mi fai entrare adesso Non mi fai entrare più Questo è il problema Ho come il vago sospetto Che me lo perderò Non so perché Ma io sto pensando in questo modo Ma quanto è bello Quante belle cose che stiamo vedendo Ma è incredibile Cioè so così tante le cose Che non riesco a capirci un cavolo L'evento incomincia alle 8 e 10 Ma se ti muovessi Magari Dato che sono le 8 e 5 Ma non è che ci dobbiamo Sta tutta giornata Da nanza sta schermata Con sto cacchio di coso Che un altro po' È un'illusione ottica Mancano due minuti Non so che cavolo hai deciso di fare Non so se lo voglio sapere Raga io non so che dirvi Io boh A parte vedere Il sole come gira Anche se non lo sta manguo Solo Dato che sono le 8 di sera Io non voglio fare A nulla E poi Ripartire Perché non vorrei peggiorare la situazione Dato che l'ho già fatto una volta E non so Se ho peggiorato già la situazione Non idoneo all'evento Aspettate un attimo Che cavolo significa? Vabbè Ehi Mi metto una bella pietra sopra So già che me lo so perso Fantastico raga Me lo so perso Addio e vento Ma vabbè Moriammazza Magicamente ora la connessione Non va manco più Cioè Caso? È un caso? Stasera se ne sta andando Tutto a quel paese Questo è un segno Per dire Facevi prima non farlo Quello che dico anch'io Facevo prima non farlo proprio Buonanotte veramente Chiusa sta varia entesi Sono uscite queste cinque sfide Ovviamente non contando Le prime tre Che servono per sbloccare E per avere in premio Insomma Questi tre premi appunto Hanno dato In premio Anche per chi non è riuscito ad entrare Che ha tentato di entrare in partita Ma non ci è riuscito Come ho detto Io sono stato uno di quelli Ad avere in premio Questo deltaplano Quindi Andiamo in rissa squadre Voglio cercare di Finirle tutte in questo video Così almeno Oh Concludiamo in bellezza Ricevendo tutti i premi Tutte e tre i premi Ma fa un casino Della madonna Sto cosa Mh beh No raga Non sto capendo Non funziona nemmeno a me Perché? Aspettate Raga ho capito Perché non funziona Perché Io che perdo tempo È proprio un bijou Beh Raga Sono ritornato Però In qualche modo farò Ma comunque Io l'ho detto Sto cosa È un casino enorme Oh Oh da non credere Ho fatto un atterraggio Con i fiocchi Ho come l'impressione Che la spada Sarà Bella complicata Da trovare Io ho detto Faccio almeno Ste cose Della spada Del fucile Ma È ovvio Che lo dobbiamo trovare La spada O il fucile Oh No Mi sono È vero Ho lasciato Vabbè Ma hai rotto Però play Oh No Prendi No Da dietro Eh Vabbò Va Io sono sempre A centro dell'attenzione Belle partite Che stiamo facendo Comunque Bellissime Veramente Partite di prima qualità Ma di quella qualità Che fa veramente pena Malede Sì vabbè Raga I miei colpi Dove mi arrivavano Arrivavano a Napoli O spada O fucile Io non so dove trovarli Un lama Un lama Vieni ragazzo mio Ragazzo Sì vabbè Dove l'hai trovata Tu la spada Ma Ti levi davanti alle scatole Di grazia Ah Grazie Ma cerchiamo di fare qualcosa di buono Con questa Robina qua Da dove Da dove Porca di quella miseria E prendi qui Ma perché mi vengono sempre in mille le persone L'animaccia vostra Oh Madonna Ma caga Dai Certo Ho perso un botto Di vita Ma chissene Che che v'ho detto No vabbè Ma io c'ho una sfiga Comunque Oggi Sì proprio E' una cosa che proprio Non si può Per niente invidiare Oh Buono Però non prendetevelo con me Se sparano tutti a me Wow 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 Niente raga C'erano cinque contro di me Io non lo so Mi faccio bene allora Che ho incominciato a giocare A modalità singolo Ho fatto bene allora E come se ho fatto bene Un zaccio Delle partite così O non le fa nessuno Infatti non le fa nessuna Perché Capitano insomma a me Ste cose Mortacci Ma dove cacchio sta Quelle persone scompaiono E' quello il fatto Oh Sì vabbè raga So più di uno Ma vattene a cacare Va L'ho ucciso L'ho ucciso Madonna Come te lo metti in quel posto Sono a fare peggio kill Solo con me Vedi 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 C'è dei cecchini Sono Dei cecchini Vi volete stare fermi Mio dio Grazie anonimo 282 L'animaccia Tu e quanti nei team Ma veramente Rissa squadra La sto odiando forte Voi non potete capire quanto Vabbè va Fa un cuore va Certe volte mi domando Ma mi conviene Ancora giocarci Sto gioco Perché se tutto Venga in massa Contro di me Non è più possibile Giocarci Proviamo a vedere In modalità singolo Perché in rissa squadra Insomma Non ci sono questi soldati Di primo ordine Io spero in meglio Bene Sì Da dove vado? Ma va A cacare va A te sto cosa Ricocigliamoci Non ci sono Ma dove? Ma dove? No! No, son morto, raga! Ma dove? Sì, vabbè, dai, ma questi spuntano come i fiori in bocca! Stato bello finché non ci sei stato tu! A volte sei arrivato tu! Sì, batti pure le mani, eh! Che sei fatto? Sembra che queste spiccano il volo e mi compaiono da su... dall'alto! Che sarò cegato io, non lo so! Ditemi tutto quello che volete voi! Ma io non li vedo! Raga, mi sono scocciato, guarda, due partite sono già bastate per rompermi le scatole! Guarderò cosa posso fare con Star Wars! Spero che questo video mi sia piaciuto, non so in che modo, non lo so! Io ci provo sempre a portare qualcosa di bello, ma niente, niente! Con questo gioco ci sono le volte che riesco ad essere un fenomeno, ci sono le volte che invece non mi danno tregua! Spero che in qualche modo vi sia piaciuto! A me non è piaciuto! Se non è il video almeno che mi sto simpatico! Mettete un bel mi piace! Se vi sto simpatico mettete un bel mi piace! Scrivetevi un commento, non lo so! Se qualcuno comunque vuole essere salutato nel prossimo video fatelo pure! Iscrivetevi se non è quello che ho fatto! Ciao!